Aveva comprato una casa ad un'asta giudiziaria bandita dal Tribunale di Palermo, ma dopo aver pagato 100.000 euro nel 2016, scopre di avere acquisito soltanto il diritto di superficie e non la piena proprietà del bene. E per entrarne in possesso ha dovuto versare oltre 17.000 euro all'ente proprietario. L'errore, ha stabilito adesso la sezione civile del Tribunale di Caltanissetta, è stato commesso con certezza dal primo magistrato che ha emesso il decreto di trasferimento. I giudici, ritenendo il ricorso inammissibile, rilevando che era in dubbio dagli atti del procedimento ed in particolare dalla certificazione noterile, che il debitore non era pieno proprietario dell'immobile, ma proprietario superficiale, hanno così condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riconoscendo la responsabilità civile del magistrato. Il Tribunale ha disposto il risarcimento dei danni con il pagamento al ricorrente degli oltre 17.000 euro aggiuntivi pagati per comprare la casa, oltre alla rivalutazione e gli interessi legali e il rimborso delle spese legali.